La scessione di Luigi Di Maio, che ha lasciato il Movimento 5 Stelle portando con sé 12 parlamentari campani, 3 consiglieri regionali e 3 consiglieri comunali di Napoli, ha rimescolato le carte non solo nella politica nazionale ma anche locale. Il presidente della regione, Vincenzo De Luca, intravede in Di Maio un possibile interlocutore per la creazione di un nuovo soggetto riformista nel campo del centrosinistra. Allora, io non credo che ci sia spazio per avere nell'area riformista 10 componenti politiche. E' una cosa ridicola, ridicola. Allora, mi auguro che ci sia qualcuno che avvii un processo costituente. Non è un lavoro che si chiude in due mesi, ovviamente. Però questa può essere una cosa perfino entusiasmante per le giovani generazioni. Ripercussioni anche a Napoli, dove però il sindaco Gaetano Manfredi ha assicurato che dalla neonata formazione politica, insieme per il futuro, che fa capo a Di Maio, non sono arrivate richieste di posti in giunta. L'inquilino di Palazzo San Giacomo si è detto comunque tranquillo sulla tenuta della sua maggioranza. Sono assolutamente tranquillo, ovviamente. Io, insomma, dialogo con tutte le parti che sono in campo e quindi penso che alla fine, ovviamente, nel legittimo rispetto di tutte le posizioni politiche, rispetto alla maggioranza, non credo che ci saranno ripercussioni. La vicenda si porta dietro anche conseguenze che, oltre il livello politico, interessano la spera personale, come la singolare vicenda di Maria Pallini e Giovanni Currò. Entrambi, parlamentari 5 Stelle, sabato si sposeranno, ma intanto hanno divorziato politicamente. La deputata erpina seguirà Di Maio, lui invece ha deciso di restare con Conte.